Il panorama politico in Ucraina è in movimento. In vista delle prossime elezioni politiche del 26 ottobre stanno emergendo volti nuovi che potrebbero rappresentare la futura leadership del paese. Cresciuti politicamente con le manifestazioni dell'autunno scorso, per i nuovi candidati a prodare al Parlamento significa concretizzare i sogni di democrazia e riforme. Tra questi anche Mustafa Nayem, ex giornalista e in lizza nel gruppo elettorale del presidente Poroshenko. Non siamo gli unici ad avere queste aspirazioni. Ci sono anche altre persone, almeno 15 candidati, che si sono presentati in altri partiti con il nostro stesso obiettivo. Forse così riusciremo a modificare il sistema di qualche millimetro, ma dipenderà molto dalla nostra tenacia e da quanto il sistema sia resistente. Martedì si sono chiuse le candidature, ma Nayem ha dovuto incassare una prima sconfitta. I volti del passato permangono. La Corte dell'Ufficio elettorale ha infatti bocciato il ricorso per evitare all'ex vicepremier dell'era Yanukovic di rappresentarsi alle elezioni. CENTRALNOVIVORCIA COMISI CENTRALNOVIVORCIA COMISI